A che lezione siamo? Non me lo ricordo, devo contarle tutte, che palle! Comunque stiamo a 17, perché so che mi basta fare il numero della lezione meno 3 e viene fuori. Dovremmo essere la lezione 17, se ho sbagliato non importa. Il modulo del sensore del suono, del sensore del rumore, quindi se voi lo mettete in una folla lui impazzisce, ma in ogni caso andiamo ad aprire, punto lo sketch, la cartella appunto, l'unica cartella contenuta è questa, appunto quella dello sketch, e io oggi ho fatto una cosa abbastanza intelligente, perché mi ero rotto i coglioni in ogni video di aprire questo e poi aspettare quei 20-30 secondi che si apre, quindi l'ho aperto direttamente prima. Diciamo che ci ho messo un po' da arrivarci, però alla fine ci sono arrivato anch'io, dai! Allora, leggiamo questa parte, il led 1 dovrebbe essere acceso, appunto il led 1 è quello che mostra la connessione alla corrente, diciamo così. Il led 2 indica l'input del suono e la sensibilità è aggiustata da un potenziometro. C'è una piccola vite nel potenziometro che appunto può essere usata per gli aggiustamenti. Girando questa vite in senso orario abbasserà il potenziometro, abbasserà appunto la soglia del potenziometro, mentre girandola in senso anti-orario aumenterà la soglia, il valore del potenziometro. Imposto il potenziometro 500 guardando appunto dal monitor seriale, perché quando collego l'arduino il monitor seriale mi dà dei valori che sono appunto la soglia. In realtà io posso dirvi che questa parte non l'ho messa nel video, non l'ho registrata, perché è una cosa altamente empirica, nel senso che sono componenti che costano molto poco, funzionano, non posso dire di no, non ho mai avuto problemi, però sono componenti che costano poco e quindi il mio 500 potrebbe essere un 700 per voi o un 300 e quindi anche se vi avessi messo la mia impostazione magari per voi non sarebbe andata bene. Quindi è totalmente empirica, anche io ci ho perso decine di minuti per trovare appunto la posizione giusta per poi farci il video e quindi appunto dovete esclusivamente provare fino a quando non trovate la perfetta impostazione. Guardare qui può servire ma secondo me è alquanto inutile perché potete semplicemente provarlo, quindi battete sul microfonetto e in base a come si accende appunto potete capire, poi provate con la musica e vedete come funziona. In ogni caso int sensor analog pin uguale a 0, quindi il pin a 0 va collegato appunto all'A0 di Arduino, sensor digital pin va al pin 7, quindi il pin D0 del sensore va al pin 7, analog value uguale 0 quindi definisce la variabile analogica proveniente dal sensore e int digital value definisce la variabile digitale proveniente sempre dal sensore. Int led 13 uguale a 13. Possiamo collegare un led al pin 13 perché appunto il pin 13 è abilitato, quindi il led inserito di fabbrica nell'Arduino funzionerà. Void setup serial begin 9600 appunto inizializza il monitor seriale per poter vedere l'audio a una frequenza di 9600, pin mode sensor digital pin, quindi questo qui ovviamente è in input altrimenti non potrebbe funzionare e pin mode led 13 output, quindi ovviamente il led 13 deve essere in output altrimenti non può accendersi perché un led non dà un input. Void loop analog value uguale a analog grid sensor analog pin, quindi praticamente ciò che fa è leggere il valore proveniente dal pin a 0 di Arduino e questo qui fa la stessa cosa solo che al posto di vedere appunto il segnale proveniente da 0 lo vede da A7. Serial print ln analog value praticamente scrive il valore dell'analogico nel monitor seriale. If digital value uguale height, quindi quando il sensore effettivamente capta un suono accendi il led, altrimenti se appunto il sensore non capta nessun suono il led 13 deve essere low, quindi spento. Delay 50, quindi aspetta 5 millisecondi, 50 millisecondi, non ricordo precisamente, e poi appunto ricomincia da capo. Andiamo quindi ora a vedere il circuito e andremo a comporlo insieme. Andiamo. Per questo progetto ci serve il cavo e l'Arduino, come sempre. Dopodiché ci serve il nostro modulo, appunto il sensore, che è questo qui. E dopodiché quattro cavetti maschio-femmina. Questa è la parte obbligatoria. Dopodiché c'è una parte che non è obbligatoria e potete decidere voi se metterla o non metterla. È semplicemente una breadboard, la breadboard piccola. Due cavetti maschio-maschio. Una resistenza da 220 ohm e un led, di qualsiasi colore voi vogliate. Aggiungo il led io semplicemente per farvi vedere il funzionamento del modulo, altrimenti si farebbe fatica a vedere il piccolo led integrato sull'Arduino. Il nostro sensore, adesso ve lo spiego un attimino perché mi sembra giusto, presento ovviamente il nostro microfono, che sarà quello che effettivamente si preoccuperà di captare il suono e di farlo capire, diciamo così, l'Arduino. L'Arduino poi lo interpreterà. E dopodiché ha questo potenziometro, diciamo potenziometro. Praticamente a cosa serve? Se il led sta sempre acceso, chiaramente va abbassato, perché vuol dire che sente anche i suoni di sottofondo che normalmente ci sono in un ambiente e questo non va bene perché significa che il trimmer è settato troppo in alto. Mentre se bisogna fare un frastuono infernale perché il led si accenda, bisogna alzare un po', perché significa che è settato ad un livello molto alto e quindi fa veramente molta fatica a captare i suoni. Andiamolo quindi a cablare, questo circuito. Allora, ovviamente come al solito andiamo a collegare prima i nostri cavetti. Ora, il pin A0, quindi il primo, va collegato ad A0 di Arduino. Il pin G, ovviamente il GND, va collegato al GND di Arduino. Il PU e il VCC va collegato ai più 5 volte di Arduino. E il D0, il digital 0, va collegato al pin 7 di Arduino. Andiamo a mettere in pratica quindi quanto detto. Allora, pin A0 sul pin A0 di Arduino. G, chiaramente sta per GND, l'ho messo sul GND di Arduino. Dopodiché il cavo più va collegato al più 5 volte di Arduino. E infine il cavo D0 va collegato al pin 7 di Arduino. Perfetto. Andiamo ora a cablare anche il LED, quindi inseriamo il LED, ricordandoci che il pin più corto è il negativo. Andiamo ad un punto qualsiasi della breadboard. Andiamo a collegare il GND di Arduino, quindi, al pin appunto più corto del LED. Qui. E dopodiché andiamo a collegare il pin 13, però non diretto, passando per la resistenza da 220 Ohm. Altrimenti gli diamo 5 volt diretti e in poco tempo si brucierebbe. Quindi lo mettiamo ad esempio qui. Ok, prendiamo appunto in questo modo la tensione direttamente dal pin e tramite la resistenza andiamo a portare al più del nostro LED. Perfetto. Andiamo quindi ora a collegare il nostro Arduino al computer. Carichiamo lo sketch, in questo modo lo alimentiamo. Come vedete, se vado a battere, i LED si accende. Ovviamente devo battere perché si accenda, perché l'ho setato ad un livello più alto, perché altrimenti io dovevo spiegare, si sarebbe sempre acceso e non avrebbe avuto senso questo video. In ogni caso, ho appunto cercato su YouTube NCS Sound. Ora metterò una canzone NCS qualsiasi, non ha importanza. Mettiamo qui. Alzo il volume e vi faccio vedere che avvicinando appunto, avvicinando lo speaker del telefono al microfono, si accenderà il LED a ritmo di musica. E questo appunto è lo scopo del nostro progetto. Sarebbe praticamente creare un LED che va a ritmo di musica. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto, a me senz'altro. Se così fosse, lasciate un like, ma lasciate un like anche se non vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale, noi ci troviamo in un prossimo video. Ciao belli!